buongiorno caffè doppio stamattina non nel senso il caffè doppio più forte nel senso del doppio sapore dolce e amaro dolce perché ieri ho intervistato l'atleta nadia battocletti la trovate oggi sul quotidiano libero amaro perché sono riusciti a censurare anche domenico modugno ci hanno raccontato solo i suoi negli e volare la lontananza e piange il telefono e hanno messo il capolavoro assoluto la più bella fosse l'unica incredibile canzone fatta cantata scritta sulla mafia cantata in dialetto siciliano era il 1961 domenico modugno aveva già capito tutto siamo nel nel 2024 i tg non hanno ancora capito un tubo buona giornata